Ragazzuoli, buonasera e bentornati. Finalmente siamo con un nuovo episodio di Macchine Random. Come guardate in basso a destra, ho appena staccato la stream, con un più 83mmr siamo altissimi, Macchine Random, o è la Twinser o è la Outlaw. La Twinser, vi dico la verità, poteva andare peggio, poteva andare meglio, cerchiamo la partita nel frattempo vi racconto un po'. Sono tornato alla Pontiac come main, perché mi sto trovando da Dio, quindi un Hitbox Octane non mi piace. Però vabbè, ci siamo in partita, l'abbiamo già trovata, 2v2 purtroppo va bene. No, Astro, ah ragazzi, il mio mate è un arabo bestiale, di laci Astro, è una lobby veramente bella, sarebbe stata quasi da contenuto anche normalmente perché questa lobby è veramente alta, e speriamo bene. Ho fatto un bel kickoff, andiamo a prendere il bus a 100, vediamo se il signor King può fare una cosa interessante, vi dico, il nostro compagno King, fake, ma ma, ragazzi, ma che ve lo dico a fare? Che ve lo dico a fare? Che intelligenza tattica! Ah, e chi dice che non l'ho fatto apposta è da andare a fanculo, la faccio sempre sta cosa, sempre. Funziona troppo, sono una bestia. Il mio compagno di squadra è molto schillato, c'è Hitta, Reset, Mastic, è una bellezza. Reset doppio, ovviamente, perché uno è troppo per, troppo facile. Facciamo un grande follow-in, vediamo, Resettino, bello! Fatti un altro Reset, no, eh ragazzi, non ho fatto tutto, sto da solo. Che faccio? Pre-jumpo? Bene, mi ha sparato un flick a 112 sotto al 7, diciamo che questi sembrano un po' i flick del King, se posso permettermi di dire. Occhio alla botta, vediamo se puoi fare un bel occhio alla botta, sì, la alziamo soltanto e magari non ho manco il busto per fare un cazzo. Il mate ha rotto le palle, prima mi ha lasciato 1v2, ora mi tagli in faccia, hai rotto il cazzo. Ok, 40 secondi per rompermi la minchia. Mi ha fatto un bel tiro, purtroppo la deve toccare lui perché non gli va bene se la parla l'avversario, deve forza toccare lui. Questo la parla un'altra volta easy, sono proprio inculato. Via! Andiamo back. Ti prego King, toccala, ti prego, bravissimo. Cerco di fare un bel anticipo veloce, sbim. Raga, è palesamente goal. Eh, sto cazzo. Allora, King ha fatto un bel tocco, l'avversario dal muro non ci può andare, devo studiare un po' la situazione perché andare in mezz'ora non ha senso. Ecco, appena detto proprio, non ha senso, infatti sto andando già dietro. Questo è rimbalzo sul soffitto, quindi devo tenermi basso. No, mate, non c'è andare. Cioè, se ci vai almeno prendi la cazzo. Mamma mia clamoroso sto tizio, eh. Meno male che era forte. Taglio, 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 non voglio far prendere palla agli avversari. Giustamente, io sto sul pallone, lui viene in preflip a dare fastidio. Io sto pure senza busta e lo sapeva lui che stesse. Ha fatto una cosa buona, io non ho busta ancora da 30 anni consecutivi. Speriamo che faccia una bella pushato lì, un po' non ha molto busto pure lui. Ah, yeah, per me pusha subito, per me non è stu. Eh, non ho busti, che cazzo faccio? Flick di merda, non ho busto, che devo fare? Vabbè, si segna con un flick veramente orribile. Ma forse l'avversario non se l'aspettava semplicemente. E godo. Ci facciamo un grande follow. Madonna. Che sfiga. Non ho busto, ragazzi, non ho busto. Posso fare una finta sotto. Mamma mia che finta, ancora. Il boss delle finte, bampato uno. Siamo due. Hai rotto il cazzo, pure il busto hai preso. No, guarda questo, che pensa di fare? Ma che fai? Lando non segnerai mai. Cioè, guarda che imbecille. Mi lascia sempre da solo dietro. Ma è inutilmente proprio, perché per cose inutili. Mamma mia che urto. Allora, 100 di boss ce l'ho. Che fai? Bella sta parata, godo. Devo anticipare. Sinistra. Posso anticipare io? Ah, no, mi faccio i fatti miei onestamente dietro. 100 di boost. Ti prego, mate, alzala. Bra, ce l'ho. Non ce l'ho più. Devo andare a fanculo. Via, 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 via. E vieni, via. Sbeam. Faccio un piccolo redirettino. Bello pallone in mezzo, bello, bello. Allora, vediamo se King può tirare. No, faccio... Ragazzi, un'altra volta uno di due sto. Ma scusate. Non mi ha preso. Perché la macchina non si è spostata all'inizio? Non lo so, vabbè. Oh, ho laggato. Oh, mi ha preso, non me l'ha fatto vedere. Troppo strano comunque. La macchina è rimasta lì, cosa ho spesa un po' troppo. Ancora da solo. Mamma che due coglioni, ragazzi. Mi sono rotto il cazzo di giocare con questo. Mi ritrovo sempre da solo, come un coglione. Perché questo pusha... A caso. Mamma che fastidio, sto tizio. Non manco si scusa. Seguiamo. Dai, pure 2060 MMR. Ma tu sei un cretino. Ok, dai. Il primo l'abbiamo bampato. Il secondo il busto ce lo fotte. E andiamo dietro. Via, 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 via. Vai, mate. Cerchiamo di alzare il pallone. Ok. Masty. Bello! 3 a 2. No, è parato. Giustamente. Vieni, King. Vieni, vieni. Tocco letteralmente inutile. Cerco di perdere tempo. Perché se il momento non torna sono fottuto. Vinta ancora. Tanto questo qua verrà pushare subito il primo tranquilli. Eccolo qua sotto. Il secondo sta andando adesso. Cerco di anticipare e fare un bel tocco. Stiamo carriando il più alto della lobby. Un gol più brutto dell'altro, onestamente. Però sta funzionando la mia tecnica per confonderli. Destra! Allora... Vai, King, eh? Dopo ci aspetto una bella 9v1. Speriamo in un hitbox decente e non Dominus. Bravo! La metti in mezzo, ti amo. Ancora con questi reset. Va bene, vai, King. Sì. Cioè, ti senti soddisfatto adesso? Che hai fatto questa cosa? Sei stato soddisfatto? Complimenti. Due sti plan V del cazzo. Vada a prendere il boost di là. Via, 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 via. Grande, mate. Cerchiamo di fare un piccolo feicone. Faccio un altro piccolo effectando questo pushà di qua. Destra. No. Non mi vantaggio. Andiamo a bumpà. Niente, via, via, via. Con calma io, onestamente, aspetterei che il mate spawni per pushare. Buono, raga. Non ho potuto pushare. Codo, 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 codo. Questa è la missa. Oh, non la ha messa per noi, la ha messa per noi. Meglio ancora. Devo soltanto anticipare. Bump. No, l'altro non l'ho preso. Peccato, per poco. King, io qua mi fido. Secondo me i segni e gli altri abbandonano. Lo dico io. No. Purtroppo la skill del mio mate questa partita non si è vista. Risolato fa sempre i gol che sono dei capolavori. Questa partita, invece, ho deciso di sbagliare all'ultimo. Cosa che non ho mai sbagliato tutta la partita. Madonna, questo mi stava fecando. Non è che me ne sono accorto. Grande mate, let's go. Ho zero di boost completamente. Faccio un preferito. Meno male che mi è sottottenuto la X. Devo tirare semplicemente in porta. Diciamo. Vado io. Godo come un porco. Oh, ragazzi, ma ancora salendo, Godo. 2.9 mmR per ora. Tanta, tanta roba. Bella lobby. Andiamo. Ma bassala, mamma mia, che fastidio. King di sto cazzo. Oh, cazzo. Ho fatto una bella giocata qua. GG. Vediamo che macchina ci uscirà adesso. Speriamo bene. Allora, macchina random. No, ma che è sta merda. Bestcar. Non lo, ve lo giuro, non l'ho mai vista in tutta la mia vita. Ma boh, mai sentita? Cazzo è la Bestcar. Vabbè, sono direttamente nel game della 1-1. Game trovato. Stavo col telefono perché non mi potevo scaldare. Godo, questo sta retrocedendo. Allora, vi spiego cosa ho fatto in questi, boh, 15 minuti di attesa. Sono stato col telefono in mano perché non c'ho voglia di scaldarmi. Anche perché a quest'ora le 1-1 le trova con sto cazzo. Sono le 2 di notte, porco Giuda. Non registrerò mai più. Sto vi... Sti video del cazzo la notte tardi. Perché porco Giuda non trova niente, mamma mia. Speriamo bene. Questa macchina mi fa veramente schifo per le 1-1. Se me fa veramente cagare. Non so che hitbox sia. Credo Dominus, quindi merda. E ci facciamo un grande kick-off. Molto lento. A destra. L'ho vinto. Lui prende il boost e cercherà sicuramente di bumparmi. Fammi vedere. No. Ok, cercare direttamente il pallone. Io anticipo, ma non devo più rianticipare. Devo fare completamente i cazzi miei. Completamente. Ecco. 2-0. Mi sa, mi sa che questa partita andrà a finire leggermente male. Ci facciamo un grande kick-off. Molto, molto veloce. A sinistra. Ok. 100 ce l'ho. Ci pensa il nostro avversario a passarcela. Vabbè, raga. Eh, onesto. Questo mi sembra letteralmente Gesù Cristo. Mi sa un po' di scam. Che cazzo, è una bestia. 100 di boost. Ok. Ah, se vedete in basso a destra quello è perché è in stream. Anzi, visto che sennò poi mi date dello scammer. E sono ancora i numeri della stream di prima. Quindi prima in stream ho vinto una partita e perso uno. Ho fatto pochi 1v1 perché mi scoccio ultimamente a fare 1v1. perché riesco a fare 2v2 che sono molto più chill. E quindi niente, non ho... Sono partite vecchie. Come in 2v2 che stava scritto più 90 mmr. Ecco, la stessa cosa. 100 di boost. Ce l'ho. Bravo. Posso fare un piccolo anticipino. Ce l'ho... No, finita, finita. Sto cazzo. Ce l'ho sto cazzo proprio. Eh, vabbè. Vado a bampà. Mi sa che ha preso la traversa. Mi sa però che è anche un grande figlio di puttana. 3 a 0. 3 minuti e mezzo, ragazzi. Stiamo prendendo un pene veramente gigante. E andiamo a destra. Secondo me comunque è rimontabile perché con sta macchina devo solamente capire bene come sfruttare i flick. Il muro specialmente, visto che è piatta. E si può fare. Madonna, dal ceiling addirittura. Ragazzi, ma questo è un mostro. Ma che cazzo stai dicendo? Come fa a stare così basso? Cioè, è più basso di me. Oh, ragazzi, ma è più basso di me di... 80 punti. Infatti mi leva 12. Che palle. Manca il pi greco e ci siamo. Kick off fino a destra. L'abbiamo vinto, ma non posso fare un cazzo comunque. E invece sì. 4 a 1. 3 minuti e 10. L'inizio della rimonta. Da un semplice kick off la partita si ribatte. Kick off. Rapidissimo a sinistra. Che posso fare? Un cazzo praticamente. Lui sa che non ho boost. Me lo fotte. Va bene. Ho anche fatto finta di flickare perché dicevi che aspetta il flick e fai la finta. No. Non si passa lo stesso. 5 a 1. 3 minuti. Il cofino. Veloce. È lento, lento. Che veloce. Ok, raga. Non ci andrà malissimo perché comunque il boost ce l'abbiamo. Lui vorrebbe tirare subito in porta ma non può. E ci sono io. Vedete questo è il telecom bump. Non ho boost. Lui lo sa. Mi faccio un flick di merda. Gli la regalo. L'importante è che io ho boost e lui no. Credo. Credo che la palla sia mia. Sto cazzo. Non può segnare. Vuole prendersi il boost e non lo fa. Ma il centrocampo non vuole tirare secondo me. Invece vuole tirare in porta. Lo bumpo così me la regala. E cerchiamo di prenderci nel boost. Cerco di prendermi anche quest'altro boost. Che ho fatto bene a non prenderlo perché lui non stava venendo lì. Pinta. Devo tirare. Mamma mia. 5 a 2. Vi dico è fattibile. Lui è molto più forte di me ma le cappellate le fa. 5 a 2. Ci asciugiamo le mani piene di sudore e andiamo. Kick off. Sinistra. Forse l'ho preso io il boost. Ma sapete che c'è? A me non serve il boost per fare questa giocata che ho in mente di fare. Vero? Ecco. Na merda. Il boost serviva e come? Va fangu. No. Se è goal mi incazzo eh. Da lì non puoi segnare. Ok. Forse. Questo push sicuro tra me. Meno di 3 secondi. Ya. Quando puoi usci? Un po' sorella troia ha pure preso il boost. Eh niente. Se parte è finita raga. Mannaggia. Mannaggia. Vuole fare l'air bump ve lo dico io. No ha cambiato idea. Eh rip. Secondo me non ha neanche cambiato idea. Voleva fare direttamente l'air dribble. Mi aspettavo l'air bump onestamente perché l'air dribble è indecente. Però vabbè. Kick off a destra. Ok raga buona occasione. Centro di boost ce l'ho. Lui non ha preso il boost. Vuole pushare direttamente. Ok prendo il boost. Faccio un piccolo air... Air bump funziona perfettamente. Sei a 3. Un minuto e mezzo per fare 3 gol. Bella sta partita comunque. Si può fare io ci credo comunque. Sincero si può fare. Lui che vuole fare il kick off. Aspetta pure lui bravo. Ok. Benissimo. E' a 4. Un minuto e mezzo. E' letteralmente 90 secondi per andare in positivo di 2 gol. Difficile ma si può fare. Ci facciamo un grande kick off. Veloce. A sinistra. 7 a 4. Ci sta. Come abbiamo fatto 2 gol da kick off anche lui ha il diritto di farlo. Quindi ora 3 gol bisogna fare. In 1 minuto e 26 secondi. Kick off. Sinistra. No. Ho fatto proprio brutto io. Ok. Cerco di alzare il prima possibile. Perché se questo push è alla fine. E' alla fine. Ok. Il boost è il mio. Lui non so quanto boost abbia sinceramente. Penso che non sia full. E invece cazzo lo teneva. Ne ha usato un macello. Ora non ce l'ha più però. Ne ha preso uno giusto da 12. Lo ruba qua. Non mi è andata benissimo. Qui il bump c'è stato. Ma secondo me la telecom ha interferito. Ok. Dovevo riuscire ad avere l'open. No. Non l'ho manco bumpato. Peccato ragazzi. Questa giocata. Vabbè. Ci sta. Bella partita. Meritavo di perdere. Onestamente lui era molto più forte di me. Infatti mi leva pure 12. Hello. Che vuole flammare? Ace 200 Q Ace. E' un nome che conosco. Non è di Ace. Però è un giocatore che si chiama 200 Q Ace. Vabbè sti cazzi. Ragazzi. Se il prossimo video mettete un mi piace. Commentate se vuoi di questa serie continui. Un bacione e forza abbonamento. Mezz'ora registrazione per tornare le partite. Mezz'ora buttata nel cesto. Ho pure preso il cazzo. Va fanculo. Bravo i cami. La posso alzare. Posso fare un gran tocco alto. Bello. Unica goal. Posso dire che ho fatto una giocata incredibile. Una lettura clamorosa qua. Porco Giuda che clean. Mamma mia. Bel tocco qua.